Musica Salve a tutti ragazzi sono Dan3DN e benvenuti in questo nuovo video avviso Siamo tornati con i video avvisi Perché non lo facevo da tanto tempo e ragazzi i vlog si devono fare ogni tanto Perché poi nei miei video avvisi vi faccio un riassunto Perché se tipo voi saltate un video che volete vedere è poco probabile Però se lo saltate nei video avvisi trovate tutto quello che ho fatto dal video avviso precedente a adesso Quindi ragazzi più tardi sarà il riassunto di quello che ho fatto Però prima delle cose più importanti da dirvi Sono molto spiacevole perché ragazzi Mi è arrivato l'HDPVR Sì finalmente mi è arrivato Ok Però ci sono due cose che non vanno bene in questa In questa spedizione diciamo Mi hanno spedito ma ci hanno mancato il cavo dell'alimentazione Che Mi sono procurato un cavo però è diverso quindi Devo cercare di farmene un altro Bene così E poi mi hanno mancato il cavo USB E queste due cose mi danno alcuni problemi Perché potrebbero essere cavi specifici Si possono copiare Sì i cavi però potrebbero essere specifici perché Permettono il giusto funzionamento dell'HDPVR Che a me questa cosa non va Capì? Tipo I procedimenti sono lunghi i procedimenti Però Quando devo arrivare all'ultima cosa Cioè che devo aprire il programma sul commit per catturare il video L'HDPVR Esplode Cioè Cioè che Si tipo si spegne Capì? Tipo vai stand by Una cosa del genere Io credo perché Il Forse Perché l'alimentazione non è abbastanza potente Oppure perché l'USB non lo riconosce mai Che cacchio Vabbè Ragazzi se risolvo queste cose Se riesco a risolvere queste cose Potrebbero arrivare le serie sulla Playstation Perché come avete visto Mi sono Fermato Perché Volevo aspettare l'HDPVR E detto vabbè arriverà fra la settimana Poi incomincerò a fare video tranquillamente Blablabla Alla fine mi è arrivato E vai mi è arrivato l'HDPVR Non funziona Mi sono proprio Mi sono tipo Mi stavo sparando Capì? Tipo Con il joystick così E Vabbè La cosa che mi ha comportato Tanto Almeno su questo E che ragazzi abbiamo raggiunto i 40 iscritti Se E va Maia distrutta Aspetta Non si vede Dovete vedere la mia maia distrutta Eccola Allora Cioè Allora ragazzi vi ringrazio Per aver raggiunto i 40 iscritti Non solo ragazzi Perché c'è anche Una ragazza Ho visto tra gli iscritti Quindi grazie Grazie Ho visto che Se è iscritta Grazie al mio video di Slender Ora non faccio nomi Però Se è iscritta Grazie al mio video di Slender Ragazzi Io vorrei Fare Slender Sì di nuovo Però Devo fare la facecam Perché Chi se ne frega Della Slender Voi volete vedere a me Che faccio No allora Se sentite tipo Un'interferenza incredibile Perché ho staccato Le cuffie Al pc Tipo Tutto il pc E Vabbè ragazzi Credo ad Andrax O Andrax Se stai guardando questo video La prossima Che ci dobbiamo Che ci incontriamo Mi devi portare La pennetta Così posso fare Slender Se lo volete Ragazzi Lo devo finire Lo voglio che sia finita Ma quello è difficile Sembra facile Ma è difficile Allora ragazzi L'ultima cosa Dopo faccio il riassunto Non mi preoccupate È che Praticamente Avete visto Il 9.6 sul computer Visto che sono state Abbastanza apprezzate Dico di Cioè Io prometto Di continuare Queste serie Questa serie Che ne è una sola Prometto di continuarla E Se vi piace Anche di Un po' Sovecitarla Cioè Falla diventare La mia serie principale Tipo Quindi ragazzi Spero di Risolvere Il fatto Con l'HDPWR E di Continuare Come stiamo Continuando Per stare Sempre di più Grazie per i 40 iscritti E ora ragazzi Il riassunto Il riassunto Della sett... No Che settimana Stavo a sende Col vlog Per un sacco di idee Vabbè Il riassunto Di quello che ho fatto Leggete C'è tutto C'è tutto Però Se non sapete leggere Vi dico io Qui ci sono I video Di Electriman Fino alla Semifinale Che ho fatto Oggi No Ieri Oggi Dipende da quando L'ho guardato Quindi Vabbè Tutti i video Poi ci sta Oddo Pixel Days Poi Escape the Prison Addestramento Ninja E Vex 2 Troppi o meno I giochi che ho fatto Per adesso Non so se ho dimenticato Qualche gioco Credo di no Credo Vabbè Io lasciato il tempo Per scegliere Mente Pensavo alle mie cose Che non servono Assolutamente A niente A niente E quindi ragazzi Il video per oggi Finisce qui Da Dan3DN È tutto Vi invito A lasciare Un commento Un mi piace E Iscrivete al canale Se ancora Non siete iscritti Mettetevi piangere Anche alla pagina di Facebook Che trovate sempre In descrizione Sempre in descrizione E Ci vediamo Ad un prossimo video